Buongiorno a tutti, ciao Com'è stata la notte? E' andata bene, siamo nel mare di Alboran prima dello stretto di Gibraltar Bene, adesso siamo entrati nell'autostrada delle navi abbiamo fatto un pezzo lì, un po' trafficato quindi abbiamo deciso di uscire la prima uscita abbiamo preso lo svincolo adesso siamo qua praticamente in attesa di entrare in tangenziale e la tangenziale di Capo, come si chiama? De Gatta Capo De Gatta d'altra parte, sì, ci arriveremo per le 8 che si sa, è l'orario critico della tangenziale l'orario di punta l'orario di punta e ci aspettiamo di trovare un po' di transito di navi per il resto, bellissimo venticello giusto che ore sono adesso, Fede? 6 e 3 quarti, preciso preciso pressione 1013 oggi ora siamo passati siamo sul limite dell'alto abbiamo avuto due groppetti però guarda che spettacolo di aurora mattiniera ci vediamo l'autogrill grazie a tutti grazie a tutti